Il Servizio Sanitario Nazionale non sarà più garantito in futuro. La crisi ha colpito tutti e la sanità non scappa. Lo ha detto il Premier Mario Monti questa mattina, mentre era collegato in videoconferenza con Palermo per l'inaugurazione del Centro per le Biotecnologie della Fondazione RIMED. Una conferma alle parole di Monti è arrivata contemporaneamente da Roma, dove veniva presentato il SIC 2011, il rapporto Sanità in Cifre di Federanziani. Anche nell'ultimo rapporto appena presentato riscontriamo ancora 1,5 miliardi di euro, quindi qualcosa come 3.000 miliardi di vecchie lire, sprecati in pochissime voci, come ad esempio l'alimentazione negli ospedali, quindi il pasto negli ospedali, le mense, quindi come la lavanderia, quindi come le assicurazioni, quindi il gasolio per riscaldamento. Infatti la spesa sanitaria in Italia non accenna a diminuire, così come gli sprechi. Tra il 2000 e il 2010 è cresciuta del 60%, cioè ben 110 miliardi di euro, mentre i cittadini ormai pagano con i loro soldi il 50% dei farmaci. Secondo Federanziani sotto accusa il sistema di spesa sanitaria regionale. Il federalismo ha prodotto più danni che benefici in questo campo. C'è stata una deriva federalista troppo spinta che ha generato dei doppioni di centri di costo e centri di spesa che a parer mio sono abbastanza inutili.